Il PD di San Nicola la strada ha raccolta per valutare le conseguenze del dissesto finanziario. Pagheranno i cittadini come sempre? Purtroppo sì, questo è un comune che è arrivato addirittura al dissesto, è sempre una cosa molto grave quando un comune arriva al dissesto proprio perché sono i cittadini a pagare. La conseguenza del dissesto non è l'unica conseguenza ma sicuramente la conseguenza più grave è che tutte le aliquote schizzano al massimo e quindi gli errori, disastri, gli sbagli che hanno commesso gli amministratori pubblici ricadono sulle spalle dei cittadini. Questo è l'aspetto più preoccupante, anche l'aspetto più amaro. Lo dico pensando alle battaglie che il PD di questa città sull'indebitamento del comune, sugli errori della gestione amministrativa e contabile, battaglie fatte da anni. Noi siamo partiti dagli anni 2005, 2006, 2007 fino ad oggi concentrando tutto un pezzo della nostra azione politica per evidenziare quanto fosse sbagliata la gestione amministrativa e contabile non soltanto di questa amministrazione ma anche delle precedenti. L'ultima amministrazione ha responsabilità gravissime soprattutto per la inefficacia della sua azione, una inefficacia che ha toccato addirittura l'ordinaria amministrazione. Noi abbiamo vissuto gli ultimi anni come una città completamente abbandonata, senza una vera e propria amministrazione, con Delli Paoli e la sua giunta concentrati soltanto sulle loro diattribie, sui loro litigi interni, sulle deleghe e sui passaggi dalla maggioranza alla minoranza che si sono avuti. Ma è chiaro che non è stata semplicemente l'amministrazione di Delli Paoli a portare questa città al dissesto finanziario. I problemi cominciano da prima, cominciano con le amministrazioni precedenti, quelle governate da Pascariello, dalle sue liste civiche e dalle forze politiche di centro-destra. Già nel 2007 noi alzavamo la voce per dire che questo era un comune troppo indebitato e volevamo fare chiarezza su questo, sui mutui, sui debiti, sulle anticipazioni di cassa, ma siamo stati naturalmente inascoltati. Io comprendo che la materia del bilancio, la materia dei mutui, dell'intebitamento, delle anticipazioni di cassa è una materia ostica, fatta più per i tecnici e i politici che per i cittadini. E però sono temi così importanti perché, come si sta dimostrando adesso, si ripercuotono poi sulla vita delle persone in carne ed ossa, e cioè sui cittadini sannicolesi che oggi si trovano a pagare le responsabilità gravi di chi non ha saputo governare e gestire questa città. Con il dissesto non sarà facile per la prossima amministrazione governare la città. Lei ha sottolineato l'importanza di creare una filiera istituzionale. Sì, io lo sottolineo con forza e vorrei dire che chi deve provare a creare la filiera, chi si deve sentire investito in prima persona, sono proprio i cittadini sannicolesi. Noi ci troviamo di fronte ad un dissesto finanziario e di fronte ai responsabili di questo dissesto, cioè gli amministratori che hanno mal governato questa città. Io non posso non sottolineare, questo deve valere, come dire, come un campanello d'allarme per i sannicolesi. Sono i cittadini con le proprie scelte e con il proprio voto che determinano la elezione delle varie amministrazioni. E i sannicolesi si sono lasciati abbagliare da proposte politiche inconsistenti e che hanno portato il comune al dissesto. Si sono lasciati abbagliare evidentemente da programmi elettorali vuoti e da persone che non hanno, da amministratori che non hanno mantenuto le promesse. Oggi tocca di nuovo ai sannicolesi. La parola è di nuovo nelle loro mani. Noi abbiamo bisogno in questa città di una svolta completa, radicale. Abbiamo bisogno di voltare pagina, abbiamo bisogno di consegnare San Nicola nelle mani di una squadra fatta di persone, di uomini, di donne onesti e capaci e che abbiano tanta voglia di lavorare, che soprattutto non siano portatori di interessi personali, che si mettano a lavorare nell'esclusivo interesse della città. E vengo alla domanda perché sarà molto difficile amministrare una città in dissesto finanziario. Un comune che per gran parte è commissariato, perché tutta la parte contabile di questo comune è commissariata e gestita dai commissari che saranno nominati in conseguenza del dissesto. E quindi la futura amministrazione avrà una grande difficoltà a trovare le risorse per rendere questa città vivibile come essa merita. E naturalmente per fare questo noi non potremo fare ricorso alle risorse comunali perché queste risorse semplicemente non ci sono. Sono state sperperate negli anni e dovremo anzi fare fronte ai debiti che si sono accumulati. C'è una strada diversa da seguire, è una strada complicata, che richiede tanto impegno, che richiede tanto sforzo, ma è quella di creare una filiera istituzionale forte, solida, che porti San Nicola al di fuori dei suoi confini, anche sul piano amministrativo e politico, che la renda una città partecipe di una conurbazione e che possa metterla nelle condizioni di creare progetti per accedere ai finanziamenti, quelli regionali, quelli nazionali e quelli europei, che saranno l'unica vera fonte di finanziamento che si potrà utilizzare in questa città per provare a cambiarle volto.